Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Gianna Attasio sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Impruneta e Barberino e tra Arezzo e Firenze Sud, rallentamenti tra Valdichiana e Arezzo sulla A11 per incidente un chilometro di coda tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze Impruneta Statale 1 Aurelia chiusa a Pisa in corrispondenza del video per Coltano per i lavori di ricostruzione del Cavalcavia Chiudiamo con i treni per lavori di manutenzione del viadotto stradale sul fiume Arno a San Donnino Oggi interruzione della circolazione ferroviaria tra Firenze ed Empoli Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze Buon viaggio